Il carnevale è stato annullato perché c'è un'ordinanza della regione che sappiamo sta arrivando che dice di sospendere i carnevali per cui il carnevale oggi a Bruino non lo facciamo siamo d'accordo con i gruppi della battaglia della farina che appena sarà finita l'emergenza ci ritroviamo e decideremo un'altra data magari in primavera in estate quando sarà di rifarlo e quindi ci rivedremo prossimamente mi scuso dell'inconveniente ma capite che la situazione non dipende da noi